Il nono match, K1 rules, 3 round per 3 minuti, categoria 71 kg. Dal file trapping rappresenta l'Italia, angolo blu, Angelo Leanzio. Abre la mano, cierra la mano, pulsa las piernas, abre las piernas, abre las manos, dos, cierra las manos, sube los brazos, baja los brazos, salta pa'l otro, salta pa'l otro, salta pa'l otro, puja, machuca, empuja, presión, presión, empuja. Prega, machuca, empuja, presión, presión, empuja, machuca, empuja, presión, presión, presión. E ora dal Multifiding Club rappresenta l'Armenia, David Andresian. Grazie a tutti. Questi match non sono solo, e quindi chiamo qua sul ring Giulia. E adesso ancora non sono solo, e chiamo Sara. Siamo pronti per questo K1 Rules. Tre round per tre minuti, categoria 61 kg. Arbitro Claudio Baccolini. E questo è il primo round. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 e 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 a tutti. a tutti. e a tutti. e a tutti.